1071 voti per l'Icea, 4 seggi su 4 Un commento a caldo dai nostri nuovi rappresentanti Allora possiamo dire che sicuramente non ci saremmo aspettato questo risultato assolutamente Non contavamo sui 4 seggi ma neanche sui 3 ha ragione Se posso dire qualcosa chi c***o l'ha votato Ivan? 326 persone, quindi 326 Puntiamo sulla simpatia, volevo sottolineare questo E quindi a questo punto il primo punto che andrete a sviluppare Sicuramente la card, sicuramente la card In quanto è un punto molto forte della nostra lista Crediamo che abbia giovato alla nostra E vi è molto richiesto anche dai professori Quindi proveremo a darla anche ai professori anche se non è vero Il nostro obiettivo principale come l'anno scorso è quello ovviamente di concretizzare E non solamente con le parole, noi concretizziamo davvero Dare il massimo e risolvere i problemi che tutti gli annulli dei giochi ci porranno Sì, infatti abbiamo anche portato come punto, proprio per questo Abbiamo portato l'Helping Box Proprio per, come dice Gianmarco Noi, diciamo, uno dei nostri obiettivi fondamentali è andare incontro alle esigenze dei ragazzi Risolverle in maniera immediata E quindi abbiamo pensato un po' a tutto per gestire in maniera più completa la situazione scolastica Beh, in bocca al lupo con i nostri nuovi rappresentanti Grazie 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 Applausi 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 Applausi